La decisione del sindaco di Riesi di disporre lo stop al consumo dell'acqua per usi potabili per la presenza di trialometani è formalmente ineccepibile e rappresenta per il primo cittadino una strada da percorrere obbligatoriamente. E' quanto si legge in una nota diffusa da Caltacqua che desidera rassicurare l'utenza sull'immediata attivazione di ogni utile iniziativa necessaria a un rapido superamento della criticità. Dalla società del servizio idrico fanno sapere inoltre, in tal senso appare utile specificare che lo sforamento del valore dei trialometani si è comunque mantenuto all'interno del minimo range di tolerabilità con uno scostamento dunque minimo rispetto al limite normativo. Caltacqua ha inoltre già effettuato i prelievi e inviato i campioni a laboratori esterni accreditati per effettuare i necessari accertamenti. Tutto ciò nell'esclusivo interesse dell'utenza e nel pieno rispetto dei protocolli operativi. Infine il gestore desidera anche specificare di aver avviato in anticipo, in via del tutto precauzionale rispetto ai tempi programmati inizialmente, le operazioni di manutenzione e pulizia del serbatoio Ancipa.